Laico è una società scientifica nata 27 anni fa da un gruppo di infermieri visionari di sala operatoria che tornando da un viaggio all'estero avevano visto la realtà europea e d'oltreoceano in cui il ruolo dell'infermiera di sala operatoria era determinante. Ha avuto inizio come associazione soltanto di capisala, attualmente si chiamano coordinatori, poi invece durante la sua storia è stato evidenziato che gli infermieri di sala operatoria non erano solo i coordinatori e quindi è stata cambiata lo suo statuto e attualmente raccoglie oltre mille iscritti, è presente su tutto il territorio nazionale. La Mission è un'associazione che si preoccupa e si occupa di tutti quelli che sono i bisogni formativi e bisogni di espressione di questa professione svolta in un posto così chiuso ermeticamente. A volte sembra che all'interno di queste sale non ci siano persone o professionisti perché siamo attenti soltanto al risultato finale dell'intervento. Ma un intervento chirurgico nasce, cioè inizia con l'ingresso del paziente, con tutta la preparazione e anche la meticolosità con cui viene preparato un intervento chirurgico per far sì che il paziente possa poi tornare in salute. Assieme al chirurgo e all'anestesista hanno pari dignità e pari importanza e soprattutto per quanto riguarda tutta la preparazione dello strumentario, dei presidi che vengono utilizzati durante un intervento e anche per l'assistenza, l'accoglienza, la comunicazione con il paziente che arriva spaventatissimo in una sala operatoria perché ha appunto il terrore di quello che gli possa succedere mentre dorme e quindi effettivamente l'infermiera di sala è quel professionista che si occupa assieme ad altri del paziente anche quando dorme. Oltre alla formazione che noi attraverso corsi, congressi, attraverso la rivista scritta dagli stessi iscritti, infermieri, coordinatori di sala operatoria, cerchiamo di dare quello che è il meglio ai nostri iscritti ma non solo, circa le nuove tecnologie, le nuove tecniche, come approcciarsi di fronte a determinate situazioni, a determinati interventi. Quindi un'associazione che è in continuo cambiamento, a pari passo con quella che è la tecnologia e anche con quelle che sono le leggi, i cambiamenti che riguardano proprio lo svolgimento di questa professione. Siamo degli interlocutori con il Ministero della Salute, sediamo a tavoli interdisciplinari assieme a esponenti chirurghi, ospedalieri universitari, anestesisti e facciamo parte della EORNA che è l'associazione europea che vede tutte le nazioni che aderiscono alla comunità europea per far sì che questa professione venga svolta al meglio. Noi da sempre abbiamo avuto, proprio per il tipo di lavoro che svolgiamo, abbiamo dovuto imparare e anche affrontare competenze che erano un attimino diverse da quelle che ci hanno insegnato nelle aule durante il nostro percorso formativo. Riteniamo che siamo fermamente convinti che è importante ridefinire tutta l'infermieristica per poi passare a quelle che sono le competenze avanzate, che ovviamente saranno appannaggio di quei colleghi esperti in materia, in questo caso esperti nel percorso chirurgico e in sala operatoria. Ma da sempre appunto, ad esempio, lo strumentista ha ricoperto un ruolo di professionista con competenze avanzate. Queste competenze per quanto riguarda AICO dovrebbero essere ben definite e anche certificate, certificate dagli enti preposti a questo, ma in cui anche gli ordini professionali, in questo caso la federazione nazionale, abbia voce in capitolo. Riguardo poi all'accordo Stato-Regioni, per quanto riguarda le migliori best practices da utilizzare, noi siamo per cercare di esportare e anche di importare, perché no, modelli che hanno confermato e modelli validati per quanto riguarda l'assistenza in sala operatoria e in questo come associazione abbiamo anche fornito e collaborato alle linee guida ISPERS. Quindi, perché no, se vi è una regione virtuosa che ha sperimentato dei percorsi già certificati e validati, portarli nella nostra regione o in regioni che ancora non sono riusciti ad averne dei propri, sarebbe cosa auspicabile e anche positiva e in questo AICO sarà sempre accanto a chi si vorrà cimentare.